ciao ragazzi bentornati in un altro video allora faccio questo video ho veramente guardate 10 minuti di tempo lo faccio con il telefonino perché voi lo sapete purtroppo non ho molto molto tempo a disposizione non sono quasi mai sola in casa e quindi mi viene un po difficile fare questi video anche perché quando ci sono persone in casa tra l'altro sanno e tutti io preferisco evitare di parlare sto anche facendo didattica a distanza si vede sì la mia postazione tu curio che è cambiata da quelle dei discorsi video e c'è anche un'altra gatta c'è una gatta fuori il balcone che quella tutta nera sia maninetta poi c'è tegan che non si vede però fidatevi che c'è chicca ciao ciao vabbè allora faccio questo video perché una persona mi ha scritto veramente 10 minuti fa su mio canale youtube e mi ha raccontato delle cose insomma che accadono a casa della madre e mi ha fatto una domanda che mi ha fatto pensare tantissimo però adesso cerco di trovare una postazione per sedermi perché se no non ce la posso mai fare allora quando è che ho pensato a una visione o un contatto di quelli che mi capitano come una cosa a frutto della mia mente allora quando magari sono un più un po più scossa un po più ansiosa infastidita mi sento strana come dico io stralunata e mi capitano queste cose quindi ho di vedere qualcuno vicino al letto o di sentirmi toccare io le associo a uno stato d'animo agitato che ho e quindi dico ok perché sono agitata probabilmente proprio mi capitano queste cose e perché la mente appunto lavora tantissime non so se capita anche a voi che magari state un po più ansiosi più presi a male per qualcosa e anche di notte no e pensate pensate parlate sentite voci nella testa che non so fate ragionamenti a me capita e ho riscontrato che questa cosa cioè ho constatato che questa cosa capita anche ad altre persone come è possibile che invece non è frutto della mia mente allora non può essere frutto della mia mente una situazione come quella che mi accadde qualche anno fa quando io sognai questo bambino e l'ho detto anche in un altro video se non sbaglio sognai questo bambino e sognai una donna anziana che mi disse nome e cognome di questo di questo bambino e giuseppe ok e comunque quando andai la mattina dopo in salumeria io stavo parlando con la mia amica della salumeria disse lo sai io ho sognato questo bimbo anche era bello veramente bellissimo con i capelli biondi così quella addirittura la signora anziana mi ha detto anche il nome e io disse nome e cognome di questo bambino su maschietto bambino la ragazza della del supermarket sgranò gli occhi e fece così per dire con la testa per dire girati io mi girai e c'era una donna con un bambino in braccio che era il bambino che avevo sognato il giorno prima che giustamente si posa la spesa quella che tre o quattro cose che aveva preso si prende il bambino e se ne va impaurita da morire infatti mi spiace perché chissà che ha pensato quella dimice chi è questa vabbè e quindi questo io non so come spiegarlo perché io non l'avevo mai visti io ho sognato il suo nome e cognome ho sognato quel bambino ma non l'avevo mai visti la seconda volta è successo quando a casa mia casa mia vecchia che avete visto nella mia postazione tu curio numero uno che è la casa insomma una casa antichissima perché è stata costruita all'inizio del fine inizio ottocento fine settecento inizio ottocento e vedevo questa signora si è presentata vicino al mio letto fluttuando molte volte non ho mai visto il suo volto ma era vestita con gli abiti d'epoca e quindi automaticamente non io non so cioè so che la vedevo sempre nella mia camera so che lei dalla mia camera che praticamente casa mia prima di sposarmi e quelle case antiche dove non ci sono corridoi ci sono una stanza dietro l'altra cioè da una stanza si va in un'altra stanza perché prima le case così le facevano veniva appunto fluttuando verso di me ero sveglia cercavo di svegliare mia madre a dire mamma guarda cioè adesso sta davanti a noi non puoi non vederla però lei non non la vedeva però ero sveglia e l'ho vista più volte ovviamente ti dico aspetta io non conosco gente dell'ottocento ma conosco gente che ha avuto nata nella metà degli anni cinquanta e insomma che ha avuto i nonni che erano dell'ottocento e vi posso assicurare che questa persona nel mio cortile mi ha raccontato appunto che lì ci viveva questa maestra che era molto gelosa di casa sua insomma lei odiava non faceva mai entrare nessuno solo le allieve che aveva perché usciva lei insegnava a cucire quindi entrava una volta che uscirono le puliva tutto non voleva che farci entrare nessuno dove viveva nella mia camera perché sapete anche che a quei tempi ogni stanza la gente viveva in una stanza cioè c'era il bagno in comune giù nel cortile e basta non credo sia frutto della mia mente anche perché comunque avrei potuto vedere tantissime altre cose invece di vedere quella donna senza che nessuno mi abbia mai raccontato storie su casa mia nella casa di fronte casa mia dove c'è anche un video che parlo tutti questi i miei video di esperienze paranormali appunto è dove io racconto tutto quello che ho visto sentito nella casa in un palazzo proprio enorme tipo una mini reggia di caserta molto mini però reggia di caserta dove io parlo appunto di questi bambini che da sempre li ho visti e sentiti e quando ho iniziato a esprimere questo mio disagio perché lì poi c'era un bar giù in una di quelle stanze c'era ci avevano aperto un bar io ci lavoravo ho iniziato ad esprimere questo disagio perché vedevo e sentivo cose e avevo paura anche perché io aprivo alle 6 di mattina 6 e mezza massimo alle 7 c'ero solo io praticamente sentivo giocare a palla appunto nel cortile questo palazzo è collegato al bosco della reggia di caserta comunque non sapevo niente una volta che ho cominciato a esprimere questo disagio ripeto hanno cominciato a raccontarmi cose e quindi questo non può essere frutto della mia mente cioè perché vuol dire che la mia mente la mente di altre 15 persone cioè tutte queste menti messe assieme fanno tutti questi scherzi non lo so io la vedo un po impossibile e quindi su questo punto c'è sotto questo punto di vista io cerco di dividere le cose è una cosa magari mia perché sto più agitata se io so tu mi racconti guarda che io in questa casa ci vedo e ci sento cose la probabilità che sia uno scherzo della mente perché ti lascia influenzare ci sta quindi devi essere obiettivo e devi dire ok ho visto la persona però è probabile che sia proprio perché me l'hanno detto ma quando vado in un posto che non conosco nessuno dove nessuno mi ha mai raccontato niente e vedo cose poi chiedo racconto e mi confermano ragazzi non credo che possa essere uno scherzo uno scherzo della mente voi lo vedete io col mio canale youtube non è che ci faccio chissà che cosa carico un video ogni tanto giusto per per farmi vedere per raccontarvi queste cose mi piacerebbe anche sapere le vostre storie insomma però vedo che comunque non tutti sono propensi a raccontarle però so che succedono e mi dispiace proprio che cioè non è per me un lavoro non mi interessa di youtube lo faccio per condividere anzi questa cosa mi ha giocato tantissimo perché la gente mi evita la gente mi ha fatto fuori sotto in tante situazioni e quindi automaticamente però non mi interessa perché io non sto dicendo nulla di male ci sono persone che non faccio nulla di male ci sono persone che fanno cose bruttissime e che hanno molto successo come per esempio è strano una sorta di racconto cioè pure i racconti no possono essere mia nonna vabbè mia nonna era un'enciclopedia una biblioteca di queste cose e lei aveva appunto le stesse cose mie e mia nonna mi racconta sempre che nel suo paese si chiama san benedetto e si trova in provincia di caserta succedeva l'impossibile mi raccontava di una donna che camminando di sera mentre tornava a casa sente piangere e tra la spazzatura trova questo neonato lo prende lo porta a casa e praticamente era vivo era in carne era colorato rosio e tutto tornando a casa lo insomma sveglia il marito che era notte era notte proprio no notte era sera tardi sveglia il marito dice ho trovato un bambino ho trovato un bambino guarda quando va ad aprire questa cosa social e quello che ha usato era il bambino era come se fosse morto da mese già oramai e infatti c'è questa donna subito uno shock e poi impazzita ok questo racconto che mi ha fatto mia nonna tempo fa potrebbe essere un racconto ha fatto tanto per spaventare la gente a non camminare e non farla camminare di notte per esempio però se poi mi racconta che quando è morta una signora che ha fatto cose bruttissime e non so forse ho fatto anche il video su questa cosa qui ma magari lo rifaccio questa donna era proprio praticava magia nera quando è morta che il prete è andato a fare l'estremo unzione e il prete ha visto perché poi stavano lei mia nonna era già una ventina d'anni stavano giù e hanno visto appunto non sono salite perché non non aveva rapporti con nessuno questa questa donna neanche i familiari volevano salire forse solo una cognata riuscì a salirci questo prete appunto ha raccontato quando è sceso perché è sceso praticamente spaventato che quando gli ha buttato l'acqua santa addosso usciva tantissimo fumo da addosso questa donna il prete è scappato insomma hanno fatto la quella sorta di veglia funebre che si fa solitamente attorno al letto che si faceva attorno al letto all'epoca infatti molte volte molte case abbandonate dove sono stata sì ci stavano ancora i letti le sedie intorno al letto proprio la sagoma del del defunto al centro vabbò una cosa angosciante questa comunque è niente lei mi racconta che se mentre stavamo giù che era si era fatto sera era buio oramai hanno sentito hanno iniziato a sentire delle catene massicce sbattere contro i letti quei letti di legno perché lei aveva questo letto di legno massiccio e urla urla come se ci fossero state tantissime donne in questa stanza che urlavano di disperazione di dolore ovviamente se ne sono scappati tutti quanti ma il prete andate a chiamare il prete ma il prete non c'è andato il prete ha detto no io non ci torno perché all'epoca dicevano evidentemente se la stanno venendo a prendere lei mi racconta del bambino che la donna così può essere un racconto c'è una diceria un racconto ma in questo caso mia nonna stava là quindi in questo caso mia nonna stava proprio giù casa di questa donna e lei me l'ha raccontato perché lei e tante altre persone hanno sentito queste catene sbattere quando non c'erano catene vicino al letto e non c'erano donne sopra quella era una stanza la camera da letto quindi era stata una cosa è stata una manifestazione questo io devo dire che ci credo e quindi non può essere una cosa inventata quindi io adesso chiudo il video mi dispiace insomma di fare video così una tantum però io vorrei sapere da voi cosa ne pensate se sapete distinguere appunto la realtà c'è uno scherzo della mente dalla dalla realtà ecco in questi casi qua detto questo ragazzi vi saluto ci vediamo nel prossimo video mi raccomando state attenti fate attenzione basta aspetto però dei vostri commenti per favore cerchiamo di creare una sorta di legame ciao